Per effettuare la transizione ecologica occorre basarsi sugli investimenti. Come far sì che questi vadano alle attività che effettivamente sono compatibili con la lotta ai cambiamenti climatici? Per combattere i cambiamenti climatici è necessario indirizzare il denaro verso quelle attività che possono essere considerate sostenibili e che possono aiutarci ad abbattere le emissioni di gas ad effetto serra e quindi a limitare il riscaldamento globale alla fine del secolo rispetto ai livelli preindustriali. E come fare ad indirizzare il denaro verso attività che sono effettivamente sostenibili? Ci sta pensando l'Unione Europea già da parecchio tempo, sono anni che la Commissione, che è l'organismo esecutivo di Bruxelles e dell'Unione Europea, sta cercando di lavorare ad una classificazione, un elenco, un elenco di attività che possono essere considerate sostenibili e che quindi possono aiutarci in questa battaglia e un elenco di attività che invece devono essere escluse e dalle quali occorre limitare sempre più gli investimenti fino ad annullarli completamente. Ebbene, ci sono due elementi che su questo piano sono terreno di scontro all'interno delle istituzioni dell'Unione Europea, ma soprattutto tra i governi dell'Unione Europea e sono il gas e il nucleare. Perché? Il gas da alcuni governi viene considerato come un potenziale elemento di transizione dal punto di vista energetico. Perché? Perché il gas effettivamente emette molta meno CO2 rispetto al petrolio ed emette ancora meno CO2 rispetto al carbone che in assoluto è la fonte fossile più dannosa per il clima. Il problema è che esistono molti studi, molti rapporti e anche molte organizzazioni non governative che lo sottolineano, che spiegano che il gas, benché sia meno nocivo per l'ambiente rispetto alle altre fonti fossili, emette comunque troppa CO2 rispetto a quella che noi possiamo permetterci di disperdere nell'ambiente se vogliamo centrare gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, ovvero mantenere la crescita della temperatura media globale ad un massimo di 2 gradi centigradi entro la fine del secolo rispetto a livelli preindustriali, ma rimanendo dice l'Accordo di Parigi il più possibile vicini agli 1,5 gradi. Su questo terreno però l'Unione Europea è ancora appunto oggetto all'interno dell'Europea, il problema è oggetto di un grande braccio di ferro. Dal punto di vista del nucleare i fautori del nucleare, i sostenitori del nucleare sottolineano il fatto che effettivamente dal punto di vista della produzione e dell'emissione di CO2 nella fase di produzione il nucleare è effettivamente molto compatibile con i cambiamenti climatici. Il problema è che il nucleare però presenta tutta un'altra serie di problemi. Presenta dei problemi dal punto di vista ovviamente dei rischi di incidenti che non sono mai esclusi, presenta un grosso problema dal punto di vista dell'appropigionamento della materia prima perché ovviamente l'uranio che viene utilizzato come combustibile all'interno dei reattori deve essere raccolto, deve essere preso all'interno delle miniere che sono spesso lontane e quindi c'è anche da questo punto di vista un problema di emissione di CO2. Ma esiste un grande problema anche dal punto di vista della costruzione dei cantieri. I due cantieri che sono in questo momento in costruzione in Europa, quello di Occhiluoto in Finlandia e quello di Flamanville in Francia, hanno subito dei ritardi giganteschi e i costi sono esplosi talmente tanto che addirittura in Finlandia l'operatore che sta costruendo il reattore appatisce ormai spese, appatisce ormai delle spese che sono più alte rispetto agli introditi che sono stati programmati, quindi lo fa di fatto in perdita. Senza dimenticare il problema delle scorie nucleari che devono essere trattate e ad esempio una nazione come la Francia che notoriamente produce moltissima energia grazie al nucleare ha dei grossi problemi perché non sa più effettivamente dove porre le scorie nucleari, stante che il principale sito nel quale vengono stoccate, che è una località che si chiama LAG, è sostanzialmente pieno. Questo che cosa ci indica? Ci indica che l'approccio migliore dal punto di vista della sostenibilità è un approccio che deve essere di fatto olistico, non si può considerare soltanto la parte ambientale e climatica, occorre considerare anche tutto quello che può nuocere in generale alla sostenibilità, che può essere sostenibilità appunto climatica e ambientale ma anche sociale ad esempio, per non parlare della trasparenza e quindi della governance di tutto quello che viene fatto nell'ambito delle attività economiche che si sceglie di intraprendere. Un esempio classico è quello delle dighe, noi possiamo utilizzare del denaro per sviluppare una mega diga idroelettrica, però se questa mega diga idroelettrica implica l'inondazione di un grande bacino all'interno del quale ad esempio ci sono dei villaggi o magari dei siti che per alcune persone culturalmente o dal punto di vista religioso sono importanti, se non addirittura sacre, noi abbiamo certamente dato vita ad un progetto che certamente è utile dal punto di vista climatico, perché parliamo di energia idroelettrica e quindi senz'altro rinnovabile a basso impatto, ma dall'altra parte abbiamo creato un enorme impatto dal punto di vista sociale e quindi occorre tenere presente sempre a mente quelle che vengono definite le tre gambe degli investimenti ESG, quindi ESG, Environment, Social and Governance, quindi ambiente, società e governance dal punto di vista della trasparenza e non solo, per poter essere sicuri che davvero siano sostenibili gli investimenti che noi stiamo facendo. In questo modo noi potremo garantire non soltanto la salvezza del pianeta dal punto di vista climatico, ma anche la sostenibilità sociale e quindi evitare che la trasformazione alla quale noi dobbiamo andare incontro, che sarà radicale dei nostri stili di vita, dei nostri modelli di business e di produzione, possa comportare anche delle grandi difficoltà a troppe persone.